Sul Mona capofila della battaglia contro la soppressione del Tribunale, il Consiglio Comunale si esprimerà contro la cancellazione del Palazzo di Giustizia finito nel vortice della riforma della geografia giudiziaria assieme ai Tribunali Minori di Avezzano, Lanciano e Vasto. E' quanto emerso nell'incontro che il Sindaco Ana Maria Casini ha avuto questa mattina a Palazzo San Francesco con i rappresentanti del Consiglio delle Ordine e degli Avvocati di Sul Mona, alla presenza del Vice Sindaco Mariella Iomi e dell'Assessore Alessandra Vella. In seguito all'adozione della delibera di giunta regionale con cui si istituisce una commissione per definire un piano di interventi da sottoporre al Ministero, finalizzato alla rivisitazione del Decreto Legislativo 155 del 2012, si sono riarmati gli Stati Generali dei Sindaci. E' una battaglia di tutto il territorio, afferma il Sindaco Ana Maria Casini. Porteremo avanti tutte le azioni necessarie nelle sedi opportune in sinergia con il Consiglio dell'Ordine Forense sul Monese. Chiederò a tutti i sindaci del territorio di restare uniti in questa battaglia ora più che mai e di adottare a loro volta analoghe delibere consigliari, così da poter stringere i tempi ribadendo all'unisono la contrarietà di un vasto territorio all'assurda decisione di voler chiudere il nostro Tribunale. Sull'organico dei cancellieri del Palazzo di Giustizia ha dato rassicurazioni nei giorni scorsi il sottosegretario Cosimo Ferri, ma nulla si sa al momento su cosa succederà dopo il fatidico 2020, quando scadrà l'ennesima proroga accordata dal Governo, ma il territorio vuole farsi trovare pronto.